Morte in casa sua, dissanguata, mistero nel centro di Bari in via d'Avanzati dove nella mattinata di giovedì una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita intorno alle 11.30 all'interno del suo appartamento. Il suo cadavere è stato ritrovato sul pavimento della camera da letto con una ferita da taglio piccola sul corpo. Separata dal marito, la quarantenne aveva un altro compagno da diversi mesi presente nell'appartamento insieme alla figlia della donna, una bambina di 10 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della quarantenne a causa delle ingenti perdite di sangue nella zona inguinale. Per verificare le cause della morte sono in corso accertamenti da parte della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri. Grande tensione all'esterno dell'abitazione dove sono arrivati i parenti della vittima mentre il compagno della donna è stato portato in caserma per essere ascoltato. Sembra che sia la quarantenne che l'uomo avessero avuto nel loro passato problemi di tossicodipendenza.